Il CONOU è il Consorzio Nazionale per gli Oli Minerali Usati ed è un'eccellenza europea di economia circolare. Noi raccogliamo tutto l'olio minerale usato in Italia e lo rigeneriamo al 98% ridandogli nuova vita e rimettendolo in ciclo ogni volta. L'economia circolare è una mentalità, è una impostazione, è una formazione della mente e quindi chiaramente i giovani sono sicuramente ricettivi ma devono essere anche portati a capirne l'importanza e il significato. Questa mattina abbiamo ospitato i bambini delle scuole elementari per lavorare con loro ed educarli alla formazione ambientale e al rispetto dell'ambiente ed all'economia circolare. I consorsi si fondano sull'importanza del contributo ambientale. Il sistema di responsabilità del produttore fa sì che il produttore pagando un contributo incarica poi il consorzio di recuperare il rifiuto del suo prodotto, nel nostro caso il lubrificante usato che è il rifiuto del suo prodotto. Chiaramente il contributo ambientale è fondamentale, è la linfa dei consorsi. Noi abbiamo una situazione molto buona, l'evasione del contributo è molto bassa ma abbiamo fatto un grande lavoro per eliminarla praticamente tutta e il supporto dell'Agenzia delle Dogane e la collaborazione che abbiamo avuto con loro è sicuramente fondamentale e utile. Grazie. Grazie. Grazie.